Già ci hanno fatto gol, porca di quella troia, già ci hanno fatto gol, cominciamo già con il cazzo nel culo, cominciamo. Andate a segnare, andate a segnare, non vi farei, ma porca puttana. Certo che i miei compagni, proprio che mi capitano, sono i migliori del mondo, sono a questo gioco soprattutto. Porca puttana, non fate ripassare cazzo, anzi andate a fare gol porca puttana, vedete che sono qua sotto, avanzate cazzo, passiamoli proprio la palla e facciamo fine. Ma se mi vorrete proteggere magari, ve ne sono grato. Porca puttana, prendi la palla e vai fare gol, prendi la palla e vai fare gol, ma porca troia, non puoi fare così però. La palla è lì, poi, se ci volete andare, ci andate, altrimenti ve la prendete nel culo. Ma certo, tu ti fai rubare la propria palla gratuitamente, vabbè, sempre tu comandi, cioè vabbè, vabbè, vabbè. Porca troia, porca troia quando non dovete tirare bene, porca troia, avevamo potuto vincere la partita, no, sconfitto. È possibile, porca, Anna la Madonna. Io come sempre mi prendo scelli. Eh vabbè, dobbiamo giocare contro questi qua. Io con poca vita. Ci provo lo stesso, me la para, porca di quella troia, me la para. Oh, ha segnato, non so come, non ho visto niente, però vabbè, l'importante è che abbia fatto gol. Tenti pronti, deve essere distrutto sta minchia. Abbiamo vinto, vabbè, le incazzature servono a qualcosa. Ancora Fruit Brawler, allora questo evento è proprio bastardo, ci deve capitare sempre a noi questo cazzo di evento in cui facciamo fatica di vincere. Vediamo che prendo Buzz questa volta, così a random, vediamo le bestemmie se salgono, se scendono. Ok, uno l'abbiamo ucciso. Eh, vieni qua tu. Bastardo, vieni qua. Volevi vincere. Cazzo, cazzo, una scellice, porca troia. Lo sapevo che la dovevo prendere io, porca puttana. 1-0 per noi. Di nuovo, non ho visto il gol, ma vabbè, l'importante è segnare e vincere. Poi per il resto, si bestemmia. Cazzo. Porca troia, cominciamo benissimo, cominciamo. Aspè, ma io ho visto qualcosa a volare prima. Ma che cazzo è? Un meteorite, che minchia è là? Fanculo, 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 si è fatto uccidere quel coglione. Ma che cazzo fa? Ma è possibile una cosa del genere? Ma è possibile una cosa del genere? Nessuno mi protegge. Nessuno mi protegge. Però voglio vincere loro, capito? La palla è lì. Nessuno dei nostri è qua. Per fortuna l'ho ucciso. Devo spazzare per forza la palla perché nei nostri non c'è nessuno. Porca di quella puttana, va. Tutti morendi, tutti muribondi qua. Porca puttana, nessuno che mi può aiutare. Ma l'altro testa di minchia, che fino a fa... Lì sta! Sta lì sta! Ma porca puttana, va. Porca troia. Porca troia. È diventato difficile adesso qua. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ce l'ho messa tutta, ce l'ho messa. Ora è diventato impossibile adesso. In queste condizioni qua è impossibile giocare. E cosa fa quel coglione? Invece di andare a parare la palla, se ne va. Via, vai. Vola, vola come sta minchia. Devi volare, porca troia. Che schifo. Dio, che amai ha dei dio. Che schifo. Di male inveggio come evento. Rapina. Rapina, chi cazzo mi devo andare a prendere per rapina adesso? Forse è meglio che mi prendo Energy Drink. Red Bull, ti mette le ali. Si vuole. Energy Drink, vabbè. Avete capito chi. Allora, vedo tanti spari qua. Da sopra, porca puttana. Fiamme. C'è la guerra mondiale, praticamente. Porca troia. Io ci provo in qualche modo a fare qualche danno. Solo il 6%. Mi ha costato tanto. Cazzo, cazzo. Qua ci sono fiamme per terra. C'è qualcosa. Infiammabile, porca troia. Meno male che non funziona con altri giocatori. Sennò a quest'ora eravamo proprio fottuti. Allora, io ho il potenziamento che devo usare per forza. Per fare anche l'1% di danni in più. Non lo so. E la... Porca troia. Porca troia. Ma tu ti rendi invisibile. Ma cosa vuoi fare? Eh, vabbè. Ma io non so dove cazzo siano i miei compagni, onestamente. Qua sotto, certo. Io vado ad attaccare loro. Che fanno? Se ne vanno sotto. È morto. Ma come? In che senso è morto? Vediamo se riesco a fare qualche danno. Non mi interessa. Un cazzo. Porca troia. 90-65 di danno. La partita dovremmo vincerla. Per il tempo, però. Porca puttana, porca puttana quello con rollo overdrive. Uccidete tutti. No. Cazzo, no. No, non l'accetto io questa cosa. No. No, no, no. All'ultimo, cazzo. All'ultimo. Ricercati. Come evento. Mi prendo Shelly. Allora, hanno preso loro la stella blu. Ma noi l'abbiamo recuperata subito, per fortuna. Allora, io mi devo... Ho fatto un ricaricare da cazzo di vita, porca puttana. Uccideteli, cazzo. Uccideteli. Fan culo, va. Questo ti meriti. Fan culo. È servito a qualcosa, allora, il mio. Ok, ok. L'ho ucciso. Questo è l'importante. Siamo 15 a 10. In teoria dovremmo farcela. In teoria. Ma qua le teorie vanno a farsi fottere. 17 su 20. Siamo... Meglio che attacco l'overdrive. Magari si spaventano e riesco ad ucciderli. Abbiamo vinto. Saliamo di livello. Grado bronzo 3. Attenzione perché diventa sempre più difficile. Andiamo a continuare questo evento classificato. Vediamo che cosa ci uscirà. Dominio. Io in dominio prenderei... Mi ispira colt. Non lo so perché. Dobbiamo vincere questa partita. Assolutamente. Ok. Buono. KO adesso ci è capitato come evento. Attenzione perché KO... È dura. È dura KO. Riconvermiamo colt come brother. Allora, allora. Già partiamo malissimo. Già partiamo malissimo. Sono rimasto da solo un po'. Ah no. C'è il mio compagno. No cazzo. Si è fatto uccidere. Porca troia. Ora sono nei guai. Questo mi fa un culo enorme e mi fa adesso. Attenzione. Attenzione. No, l'ho presa solo una volta. Si. Abbiamo vinto il round. Attenzione. Attenzione perché nulla è perso. Però è dura eh. Dai che è morto praticamente. Abbiamo vinto la partita. Per fortuna. Per fortuna, non per bravura. Ricercate come evento di sto cento. Io vado a riconfermare colt. Ok. Spike, colt ed edgar come squadra. Non dovrebbe essere una squadra proprio brutta. Dai. Ok. Già abbiamo ucciso il mister bazooka lì. Porca puttana. Dobbiamo stare attenti alla co... Alla pitch. Follì come cazzo si chiama. Porca puttana. Con un colpo la pitch mi toglie un patrimonio di vita. Porca troia. Siamo in svantaggio. Questa cosa non va bene. Non va bene per niente. Perché siamo in svantaggio. Fatti uccidere. Ho fatto un putiferio fatto. Ho ucciso tutti praticamente. Ok. Abbiamo recuperato la grande adesso. Volevi che rimanevo lì. Volevi. Coglioncello. Porca puttana. Sì. No. No. Attenti. 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 Manca un secondo. In teoria abbiamo vinto. In teoria. Sì. Abbiamo vinto. Footbrawl. Footbrawl. Io metterei... Shelly. Footbrawl è un evento in cui... Insomma. Serve anche un personaggio che sappia sparare da vicino. Tremano tutti come al solito. Guarda quello. Che cazzo fa? Lascia quello libero con il pallone. Ma sei rincoglionito. Sei proprio una cosa... Non ci sono parole per descriverti proprio. Abbiamo perso la partita ovviamente. Footbrawl. Mi prendo bull. Au rincatore dell'ospedale. Musica. Lai o Mova. Noi. Qui cazzo. Noi. Grazie.